Inter Ragazzi lo so, lo so, lo so ancora prima di cominciare, non lo sapessi ma lo so, come diceva Boldi, no? Vi ricordate? So che cosa mi volete dire, per tutto un saluto a tutti. Mi volete dire che l'Inter a Udine non andando a vincere questa partita ha perso un'altra occasione perché poteva essere campione d'inverno, perché ricordiamo, malgrado alcuni colleghi che ho letto in settimana e mi sono stupito, non conoscano il regolamento, gli scontri diretti cominciano a contare quando sono completi, se si arriva a pari punti, quando si fa solo l'andata è un altro il criterio, anche se tu hai perso col Milan, se fossi arrivato a pari punti avendo una migliore differenza reti, il campione d'inverno saresti stato tu. E lo so che cosa mi volete dire, ci siete rimasti male, adesso in sei giorni vi siete già dimenticati di Inter-Juventus 2-0, guardate che non c'è stata una squadra che abbia annichilito la Juventus come l'Inter, adesso però non possiamo pensare che quella partita, sempre negativi, quella partita sia stata bugiarda e improvvisamente vale Udinese Inter 0-0, brutta partita, ragazzi brutta partita, ma io me l'aspettavo, è tutta la settimana che faccio video editoriali dicendo Udine è importante, attenzione, Udine è importante, io credo che a Udine sarà veramente più difficile paradossalmente, non per l'avversario, ma per la situazione mentale, che con la Juventus, e voi mi dicevate, ma no, dopo Inter-Juventus c'è stata sicuramente la svolta psicologica per cui le si vince tutto, no, perché l'Inter è così ragazzi, ma perché io continuo a dire che in questo momento storico della stagione è meglio avere una lepre davanti, che in questo caso è ancora il Milan, perché continuo a dirlo? proprio perché li conosco, non hanno completato il loro percorso di maturità qui, vi ricordate quando venivano da otto vittorie? Va bene, non tutte limpide, ma erano otto vittorie quelle che aveva fatto la squadra di Conte come le aveva fatte la squadra di Murigno l'anno del triplete, c'era stato questo accostamento puramente giornalistico e io vi dicevo, mamma mia adesso poi c'è Roma, Juventus e temevo Genova, e Genova l'Inter ha perso, perché l'Inter è così quando cominciamo a leggere, a dirci che Barella è il più grande centrocampista europeo già ora perché l'abbiamo visto in una partita stratosferica con la Juve, Barella a Udine non è stato il Barella solito quando comincio a dirvi, guardate che se Lukaku comincia a fare gol per 10 partiti di file poi arriverà il calo e questo sta succedendo, quando dico dopo i tre gol al Crotone, Lautaro secondo me si è montato la testa e sbaglia dei gol facilissimi, vi ricordate i gol che ha sbagliato con la Juventus e devo dire che anche a Udine Lautaro non è inciso, ragazzi non hanno tutti e questi tre, guardate ve li faccio vedere, Lautaro Martinez ho anche l'altro, Romelu Lukaku, non si può mai dire niente però ricordatevelo e Alexis Sanchez perché è entrato anche lui, ragazzi non mi sono piaciuti in questo momento e anche Sanchez deve dare qualcosa di più perché insomma Lautaro la sua storia l'ha fatta sto parlando in termini di gol, non di gioco, Lukaku non ne parliamo, Perisic ancora una volta è entrato male perché è entrato male a sostituire Young e quindi la partita è finita 0 a 0 L'Udinese ha fatto il suo, ha fermato anche l'Atalanta e vorrei ricordare che L'Udinese in settimana ha fermato l'Atalanta perché adesso parliamo dell'Atalanta e del Milan perché adesso va bene fare le pulce all'Inter che ha guadagnato comunque un punto, certo poteva essere a pari punti col Milan ma il titolo platonico di campione d'inverno, ragazzi adesso scherzi a pari, io non è che sento tifosi rossoneri che sono in giro con i claxon a festeggiare, conta 0, conta 0 voi pensate che essere campioni d'inverno in una fredda giornata di gennaio era il biglietto da visita per andare a vincere il campionato, non è così, l'Inter ha bisogno di essere straordinariamente stimolata perché come l'Inter ci sembra, ci fa supporre che tutti i problemi siano risolti regolarmente l'Inter cade, è già successo un sacco di volte, quante occasioni abbiamo perso per agganciare il Milan diverse, anche Sampdoria Inter, la Befana era già un'occasione ma non è il momento giusto questo per afferrare, ripeto, le grandi occasioni, non è questo il momento io invece vedo altri segnali, ragazzi, la vittoria dell'Atalanta così schiacciante contro il Milan che sembrava imbattibile, comunque viene molto ravvicinata a quella con la Juventus ma là c'era la scusa delle assenze, quelli più oltransisti diranno ecco se non hanno rigore al Milan, il Milan non vince, ma io non arrivo a dire queste cose il primo posto del Milan in fondo per il Gironi è una data che ha fatto, guardiamoci negli occhi senza fanatismi, è meritato, ha avuto più continuità però ha preso una lezione di calcio dall'Atalanta, ragazzi ma una lezione di calcio che mi ha ricordato quella che pochi giorni fa noi abbiamo dato alla Juventus e le dichiarazioni di Ibra a fine partita sono allarmanti siamo fragili, mi sento solo, dovevamo pressare di più è un miracolo che Ilici non ne aveva fatti altri di gol oggi poteva finire veramente tanti a pochi e comunque anche il Milan adesso dobbiamo dire che dopo che gli ha fatto i complimenti per aver vinto tre scontri diretti con il Napoli, con la Lazio, con noi e il Milan ha perso due scontri diretti in casa, questi sono scontri diretti pesanti e li ha persi nettamente dal punto di vista dei gol 3-1 con la Juve e 3-0 con l'Atalanta e le dichiarazioni di Ibra Imovic, per chi conosce bene Ibra Ibra è poi uno che a un certo punto ha tanta pazienza e contento di fare quello che fa diventare grande una squadra ma a un certo punto chiede aiuto lui e se aiuto non glielo danno bisogna capire veramente, proprio perché c'è il derby ma ne parleremo compiutamente nel prossimo editoriale bisogna capire veramente quali scorie psicologiche questo senso assoluto di impotenza, perché con la Juve potevi avere le scuse questo senso assoluto di impotenza dei rossoneri che festeggiano in qualche modo però titolo di campione di inverno platonico ammanamente perché hai preso una bambola dall'Atalanta loro ricordano ancora il 5-0, ve lo ricordate con Gasperini anche in maniera antipatica che saltava al quarto gol e non vedevano l'ora comunque di restituirgliela una scoppola e hanno preso una scoppola pesantissima per questo io torno a dirvi il derby è un derby fondamentale di Coppa Italia secondo me il Milan può scegliere, guardate cosa arrivo a dirvi perché il Milan ha l'obiettivo naturalmente di tenere botta il più possibile al vertice del campionato ancora non so nel momento in cui vi parlo cosa farà la Juve col Bologna resumo che meno di sorprese insomma abbia altri tre punti l'Inter non è nelle condizioni di scegliere per questo derby e infatti Conte spero che bleffi perché a fine partita anche lui ha parlato di campionato per evidenti situazioni societarie anche di necessità ovviamente di avere un piazzamento importante io dico il campionato perché poi Conte lo vuole vincere e l'Inter è in grado di vincerlo secondo me facendo un girone di ritorno più continuo di quello d'andata l'Inter ha avuto dei problemi incredibili in questo giro d'andata ve li ricorderete anche delle scelte problemi societari che adesso rivedendoli oggi il patto di Villa Bellini i ragazzi cambia anche un po' colore perché Conte probabilmente ad Augusto gli sono state dette delle cose e lui già sapeva che non sarebbero state mantenute poi e quindi ci vuole molto equilibrio in affrontare le situazioni però sentire Conte che quasi il derby mi dice che cambierà qualcosa no 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 ragazzi il derby è fondamentale di Coppa Italia prima perché abbiamo perso dopo tanti anni quello di campionato anche scioccamente e questo derby di Coppa Italia è assolutamente da vincere e l'Inter non può scegliere le competizioni dopo che l'Inter è stata eliminata dall'Europa vorrei essere molto chiaro l'Inter ha l'obbligo di provare a vincere il campionato eppure la Coppa Italia ebbene sì non ammetto che adesso se bisogna fare turnover lo si faccia col Benevento magari sbaglio io perché poi magari se fai un'altra grande partita col Milan ti subentra ancora quella forma di rilassatezza che mi infastidisce devo dire che a Udine non l'ho visto molto è la rilassatezza l'Udinese ha messo il pullman davanti e noi ci siamo mangiati ancora dei gol perché poi questo devo dire che a Kimi se ne è mangiati un paio e tira in porta ogni tanto ragazzo mio è il tiro questo continuare ad essere molto spesso generoso quando non serve vabbè comunque ragazzi Milan è un campione d'inverno Inter che ha guadagnato un punto vogliamo dire che non è stata un'altra occasione persa a me le occasioni non mi interessano in inverno mi interessano in primavera in inverno me ne interessa solo una però il derby di Coppa Italia è un derby assolutamente da vincere ciao e alla prossima